segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te come per cortesia risposta io sui giovani al contrario delle stando mi sento colpevole io stesso perché molti a per molti anni ho creduto quello che dicevano tutti abbiamo detto a partire da 20 25 anni fa ragazzo studia imparare lingue prenditi un master il mondo sarà tuo io ogni quattro mesi ho tre stagisti che arrivano in redazione hanno tutti i 25 anni laurea master parlano benissimo due o tre lingue sono tutti molto più preparati di quando io non avessi iniziato a fare il giornalista quando avevo 21 anni lavorano bene la maggioranza di loro finito i quattro mesi perché noi non li sarebbe sfruttamento fare né di più li paghiamo eccetera come prevede la legge io mi volto mi guardo indietro e mi edico io questo magari questo lo vorrei tenere meglio per lui un posto non ce l'ho quando io alessandro abbiamo iniziato a fare giornalisti venivano assunti anche i cretini e qualcuno penserà che i cretini siamo io e alessandro perché la verità che c'è un'altra situazione economica bastava iniziare a lavorare fammi entrare allora ecco e allora